Leva, Cina fornitore di siringhe in acciaio di plastica veterinaria da 30 millilitri. Realizzato in TPX, molto resistente e riutilizzabile, lo stantuffo è facile da tirare e spingere. Includere il dado di dosaggio regolabile. Destinato esclusivamente ad uso veterinario. Contrassegni di misurazione incorporati all'esterno del cilindro, nessuna preoccupazione sbiadirà o svanirà. Queste siringhe sono perfette per l'uso in fattoria Orange. A cogliere la tua richiesta, grazie. Grazie a tutti.